amiche amici vicini e lontani bentornati a on the matters con mattia e mattia bentornati a tutti bentornato matti tutto bene tutto bene sì questa settimana direi tutto bene una settimana piena di eventi personali lavorativi ho girato un po per l'italia interessante sì mi ha perseguitato un maltempo sono nato a roma bomba d'acqua sono nato a bari maltempo e perturbazioni insomma il messaggio è stai a casa bene non parleremo di maltempo quest'oggi no non parleremo neanche del tempo però di malumori magari anche sì nel senso che poi alla fine noi ci mettiamo sempre quel anche di male perché di che cosa vogliamo parlare matti ma lo diciamo col sorriso sulle labbra come spesso ci capita ma in realtà parliamo di povertà esatto perché lo siamo tutti lo siamo tutti di base siamo tutti poveri lo siamo moralmente lo siamo fisicamente lo siamo culturalmente ma soprattutto lo siamo economicamente esatto tu quanto sei povero su una scala da uno a donald trump non lo so sicuramente uno a questo punto no la verità qual è che sono usciti dei dati dell'istat anche questo è un tema che abbiamo già toccato diverse volte anche nelle stagioni scorse però d'altra parte i dati si aggiornano il tempo passa e anche noi ci aggiorniamo come purtroppo non si evolvono ma si confermano delle situazioni già esistenti o le peggiorano non è come gli interessi che maturano su un capitale sospeso bloccato qui il problema rimane lì sospeso bloccato ma non matura niente esatto maturano i debiti tipo l'agenzia delle entrate che poi le cartelle esattoriali è proprio così ma partiamo subito con dati bravo mano qualcosa di interessante perché cosa vuol dire povertà vabbè i dati istat dicono che nel 2002 2022 scusate le famiglie sotto la soglia di povertà assoluta sono aumentate primo campanello d'allarme prima secondo me anche spiegazione da dare che cos'è la povertà assoluta perché sennò diventa una metrica un po poco chiara andiamo col momento educational che cos'è la povertà assoluta matti ce lo spiega il post in un articolo bellissimo che si chiama proprio la povertà assoluta che cos'è e sostiene giustamente che gli studi degli economisti già dai primi del novecento in america soprattutto avevano portato a chiedersi effettivamente quale fosse quella soglia di reddito minimo necessario per una vita dignitosa il termine dignitoso è fondamentale perché non parliamo di reddito per sopravvivere quindi banalmente di soldi per comprare il cibo per soddisfare i bisogni primari della piramide dei bisogni di masolo che tutti conosciamo ma di andare un filo sopra la base della piramide del tuo amico che vuol dire per esempio potersi comprare dei vestiti mantenere dei figli all'epoca gli economisti americani sancirono quello che era magari la soglia minima per una famiglia di due persone con due bambini quindi due persone che tendenzialmente lavoravano e due che dovevano necessariamente essere mantenute è lo stesso principio con cui tu sai bene in italia è stato stabilito più o meno volentieri a secondo di come lo si giudichi il reddito di cittadinanza dal governo stavo aspettando che arrivassi e questa è la intro teorica ora quanti sono gli individui sotto la soglia di povertà assoluta in italia in questo momento è un quiz mi dai due possibilità o tre urca 3,6 milioni ok 5,7 milioni ok 7,2 milioni la b 5,7 milioni vabbè forse lo posta anche in maniera molto semplice ma hai ragione è esattamente 5,7 milioni 2,8 milioni di famiglie ok tra famiglie unie personali famiglie con più persone però hai visto matti che di solito ci mettiamo d'accordo e le soprime le risposte questa non c'eravamo messi d'accordo oppure siamo allineati bene sono felice abbiamo fatto il callo ecco bene sono tanti o sono pochi è il 9,x per cento della popolazione mi viene da dire che in un paese voluto anche l'1 per cento di popolazione sotto la soglia di povertà assoluta è comunque tanto sì forse hai fatto un paragone un po' azzardato nel senso forse anche negli stati uniti è più dell'1 per cento questo è chiaro io dico in un mondo ideale utopicamente sviluppato no non ci dovrebbero essere poveri certo anche in uno stato comunista totalitario proprio comunque no effettivamente sì possiamo dire tranquillamente che sono tanti ora cosa vuol dire questo la soglia di povertà serve a sancire un limite sotto il quale lo stato ok democratico come come il nostro interviene con dei sussidi quindi è importante capire se sono tanti o sono pochi perché se effettivamente il 10 per cento della popolazione italiana ha bisogno per sopravvivere o per vivere dignitosamente di un intervento pubblico aia vuol dire che chi produce ricchezza deve produrre parecchie più e soprattutto lo stato deve mettere a bilancio delle risorse per poter sostenere e permettere a queste famiglie di sostentarsi esattamente esattamente così esattamente così va detto che negli ultimi mesi anche possiamo dire dalla pandemia in poi col botto dell'inflazione è chiaro che ragazzi con l'inflazione al 12 per cento in alcune aree è chiaro che che sia aumentato il costo della vita e quindi si sia siano aumentati le famiglie le famiglie sotto la soglia di povertà questo è chiaro perché c'è stata ovviamente l'inflazione come appena detto tu e poi ci sono state a ricaduta tutte quelle decisioni politiche a livello anche internazionale che hanno impattato negativamente sulle famiglie come ad esempio i tassi di interesse i tassi dei mutui ci sono persone magari tra di voi o che conoscete che hanno visto raddoppiarsi il proprio mutuo perché magari qualche anno fa avevano scelto il variabile che era molto più conveniente e oggi magari si trovano a pagare una rata più che raddoppiata o addirittura anche il triplo quindi sommiamo i costi derivanti dagli interessi sommiamo i costi dell'inflazione le materie prime che aumentano i conflitti internazionali che fanno lievitare i prezzi del gas della benzina e dell'elettricità anche una famiglia del ceto medio con un reddito che magari fino a qualche anno fa si poteva ritenere un reddito dignitoso come dicevi tu magari inizia ad avere qualche difficoltà è così e chiaramente ci sono dei fattori di contesto per esempio da un punto di vista analitico le aree geografiche sono una metrica importante da considerare perché perché l'11,2 per cento delle famiglie al sud in realtà è sotto la soglia di povertà mentre per esempio del nord est sono meno del 7 per cento quindi disparità molto molto importante uno potrebbe dire ah sì no beh lo sapevamo lo sapevamo però di fatto ad oggi oggi è così vai vai no non ho un dato istat ma è un dato fonte mattia donini che non è solo per area geografica ma direi che è ragionevolmente pensare anche per categoria produttiva pensiamo ai poveri tassisti che dichiarano 18 mila euro all'anno e quindi io dico ma come come si può sopravvivere con una cifra di questo tipo no non si può non si può chiudiamo la parentesi anzi apriremo un un crowdfunding per i poveri tassisti lo trovate sotto il crowdfunding sotto la prossima puntata così ci prendiamo degli insulti anche dagli amici tassisti esatto no vabbè era era importante dirlo no bravo è vero è vero perché è un fattore che è la famosa italia che cresce a due velocità dove c'è un nord che magari produce si arricchisce e un sud che magari riesce a farlo meno bello quando citi questi titoli di giornale leggo solo quelli italia due velocità no è importante perché effettivamente poi la soglia di povertà non è uguale in tutto il mondo non è uguale in tutte le zone dove il costo della vita tendenzialmente è più basso la soglia di povertà è più bassa perché il paniere dei beni necessari costa meno semplicemente come si può intervenire in questo caso e soprattutto chi può intervenire abbiamo parlato di di governo in qualche modo sarà mica il governo centrale che può intervenire per salvare questa situazione forse forse sì perché chi certamente non si può creare la ricchezza ma si può cercare di ridistribuirla o perlomeno questo dovrebbe essere il principio guida che porta a prendere determinate decisioni in termini di voci di bilancio finanza pubblica ed economia dello stato come fa lo stato quindi a migliorare la condizione di povertà da un lato uno un economista che non sono io direbbe beh cercando di aumentare la produttività del paese perché sappiamo che dove il paese più produttivo effettivamente poi aumentano tra virgolette in linea teorica i dividendi ok quindi tendenzialmente ci sono più soldi per pagare i dipendenti la ridistribuzione poi anche sul territorio i famosi indotti che vengono generati e tutti stanno bene esatto esatto e questa è una cosa l'altra cosa che qualcuno potrebbe dire è il taglio delle tasse per esempio per esempio ma questa è una mezza verità perché qua bisogna spezzare una lancia a favore del cuneo fiscale italiano in realtà siamo in linea con gli altri paesi europei è vero c'è ci sono dei dei paesi davanti a noi tipo la francia tipo il belgio che hanno un cuneo per darvi l'idea il cuneo fiscale di un single senza figli in italia arriva intorno al 50 per cento 45 46 per cento in belgio e in francia è molto più alto arriva a superare anche il 50 per cento quindi sicuramente c'è chi sta peggio di noi c'è anche chi sta meglio perché c'è da dire matti che comunque chi sta in belgio chi sta in germania chi sta in francia dove il cuneo fiscale più alto ha dei servizi di migliore qualità rispetto all'italia nel senso che si dà molto allo stato da la metà di fatto del suo reddito ma poi questo reddito viene ridistribuito e riconsegnato a chi lo dà in termini di servizi di assistenza e di altri tipologie di welfare certo assolutamente sì assolutamente sì giusto per capire un attimino quale manovre il nostro governo potrebbe avere in mente che andrebbero a impattare positivamente questo trend negativo di povertà che aumenta guarda caso in questi giorni si parla un po di legge di bilancio perché c'entra legge di bilancio perché la legge di bilancio è quella legge o quel processo di leggi perché dura quasi un anno dopo lo ricordiamo che porta lo stato il governo in carica a decidere quali sono le voci da potenziare quali sono quelle da tagliare per rendere il bilancio in equilibrio e quindi tutte le voci che voi sentite al telegiornale che vengono tagliate aumentate la sanità che viene tagliata l'educazione che viene tagliata a favore di che cosa a favore di altre cose per esempio appunto quello del cuneo fiscale perché se lo stato decide di tagliare le tasse delle imprese sui lavoratori in qualche modo deve compensarla perché se da lì non entra deve togliere le risorse da qualche altra parte per cui è proprio un gioco di bilanciamenti esatto e guarda caso infatti quello che redige il governo poi è un bilancio che ricordiamo in italia presenta comunque un debito pubblico da 2500 miliardi quindi anche questo è un altro un altro fattore e non sono nemmeno scelte che possono essere presi in modo così libero nel senso che il governo attraverso proprio questo processo arriva a presentare un progetto di legge di bilancio che comunque deve sempre sottostare alla decisione finale dell'unione europea se l'unione europea dà l'ok allora si possono fare dei ritorni esatto allora per farla semplice e concreta visto che abbiamo parlato di ricchezza e di povertà delle persone facciamo un po' in conti in tasca al consumatore tipo quali iniziative secondo la nuova legge di bilancio potrebbero impattare positivamente il sul costo della vita allora per esempio parlando sempre di uno fiscale è stato confermato il taglio del cuneo fiscale di alcuni punti percentuale però non su tutti i redditi e non in modo strutturale ovvero forever per sempre ma solo per alcuni mesi e solo sui redditi fino a 35 mila euro per cui sì una bella fascia ma non tutti potranno godere di questa cosa ok quindi questa è la misura sulle tasse e sul cuneo fiscale dopodiché una misura di cui se siete stati attenti abbiamo accennato nella scorsa puntata è stato il taglio del canone rai anche quello è un tributo che viene dato allo stato però di fatto va a alimentare le casse pubbliche e quindi è stato tagliato di quanto pare pare di 20 euro che però come ha ricordato il buon senatore gaspari quei 20 euro ci verranno tolti da altre voci inculcati inculcati nella nostra quotidianità attraverso una serie di accise che no non è corretto dire accise ma di iva che aumenta su una serie su una categoria certe categorie di prodotti esattamente aiutami a ricordare pannolini pannolini assorbenti latte quello in polvere per i neonati insomma beni diciamo di forse non prima ma primissima necessità per alcune categorie perché che cosa succede la proposta è di raddoppiare l'iva adesso si paga il 5 se la legge di bilancio verrà approvata dalle camere quindi diventasse sì credo che fosse eliminare il taglio precedente dell'iva cioè credo che inizialmente fosse già al 10 poi era stata portata al 5 adesso si riporta al 10 beh è curioso per un governo che della incintivazione alla natalità ha fatto una bandiera non solo in campagna elettorale ma anche quotidianamente con una serie di interventi curiosa questa cosa bravo questi sono quelli che gli economisti bravi quindi non non io non lo so tu però io mi sento di includermi della categoria parlerebbero di esternalità negative perché se tu vuoi incentivare la natalità e quindi le famiglie normali ricordiamolo a procreare probabilmente devi farlo con una serie di incentivi per cui scontando dato dei bonus invece aumentando il prezzo del latte aumentando il prezzo dei pannolini forse quest'incentivo proprio io non lo vedo però lato positivo tu poi alla fine a bilancio non devi dare quei sussidi alla natalità che avevi promesso perché se io già di mio il figlio non lo faccio non riceverò il sussidio infatti infatti uno dei sussidi è l'asilo nido gratis per il secondo figlio se io non lo faccio è ancora più gratis non devo dare il sussidio quindi ce l'ho per tenermelo per altre cose magnifico tipo il ponte sullo stretto per esempio per esempio vedremo vedremo bello curioso questo approccio non so se essere positivista o negativista io ho dei vaghi ricordi dei miei studi di economia politica che parlavano di finanza creativa e siccome non l'ho mai capita forse è proprio questa lanciare delle cose avere degli input che però non sono apparentemente collegati o conseguenziali gli uni agli altri ma sono un po così buttati lì come se buttassimo degli input in un bel powerpoint ah no ecco tra le iniziative leggevo un adeguamento delle pensioni all'inflazione non ho capito per chi e per in che termini perché anche lì ho scoperto che le pensioni si calcono moltiplicando il minimo cioè delle pensioni esiste un minimo ok di retribuzione e poi tutti tutti gli scaglioni sono per multipli del minimo che è curioso non è come il reddito capito che ha delle fasce tanto noi non ci andremo quindi è anche inutile studiarlo peraltro bravo matti perché dici dove dove metti da un'altra parte togli si vogliono aumentare le pensioni minime ma si alza l'età pensionabile perché da quota 100 siamo passati a quota 101 2 3 e adesso si propone quota 104 per cui l'uscita dal mercato dai lavoratori sempre più in là e quindi perché c'è bisogno di cioè le pensioni si alzeranno pochissime persone se le persone non vanno in pensione siamo sempre lì diamo sussidui ma riduciamo il target di persone a cui dare sussidui esattamente esattamente e così risparmi no e fai vedere che le casse dello stato ne beneficiano è meraviglioso è meraviglioso non lo so è veramente è quasi teoria politica teoria economica questa filosofia quasi dell'economia probabilmente sai anche loro stanno studiando e vedendo quali sono gli effetti a breve e a lungo termine delle politiche finanziarie del nostro paese no per cui dice proviamo a buttare lì questa cosa e l'anno prossimo vediamo come va no no assolutamente sì anche questa cosa tanto per almeno dieci anni scusa sarà colpa di conte e del governo precedente che ha lasciato i bilanci in rosso quindi posso andare a tentoni pensavo di mario draghi perché ha fatto il 110 perché non ha lasciato l'agenda 110 comunque l'ha fatto conte draghi l'aveva messo a posto l'aveva messo a posto ok chiedo scusa per questa ti ricordi che sono sempre grillini ad abolire la povertà e a regalare le ristrutturazioni hai perfettamente ragione salutiamo gli amici grillini e tassisti che comunque e quindi anche i novax per non farli lasciare fuori no vabbè la cosa curiosa è che questo discorso che stai facendo tu della legge bilancio in realtà negli ultimi vent'anni l'hanno fatto in tanti allora l'italia il pil pro capite italiano non cresce dal 1999 quindi esattamente la gente mediamente guadagna come nel 1999 con tutta l'inflazione che c'è stato nel caso con un cambio di moneta caso mai te ne fossi reso conto che sicuramente ha necessariamente aumentato il costo della vita in italia perché lo ha un po' livellato rispetto a una media europea e quindi in realtà è chiaro che quello che non è mancato è la crescita della produttività cioè quello che dicevamo all'inizio negli ultimi vent'anni l'italia non produce ricchezza è cresciuta dello 0,7% penso che peggio di noi abbia fatto solo la Spagna con uno 0,5% dove c'è effettivamente poi anche una soglia di salario medio un po' più basso la Germania per citarne una a caso è cresciuta del 20% in produttività ecco per darvi un'idea bene che bella idea stendiamo un velo pietoso c'è da dire che quelle notizie che sono uscite non sono ancora le effettive manovre della legge di bilancio perché quelle si avranno entro il 31 dicembre ancora cambierà ci sono delle modifiche lo citavi tu prima al post che ha detto la legge di bilancio sarà completamente diversa da quella che è stata presentata quindi ci vorrà ancora qualche mese perché poi come sappiamo tutti i vari gruppi parlamentari e le fazioni politiche che tendono a mettere delle cose a toglierle c'è il baratto su alcune cose prendi e dai doubt des per cui vediamo ci sono ancora dei margini di miglioramento ma come sappiamo dei margini ancora maggiori di peggioramento è vero è vero un barlume di speranza ce lo dà e anche un suggerimento per poter fare meglio suggerimenti vedremo se ne daranno ancora non ne sono usciti la commissione per la vigilanza sull'intelligenza artificiale bravissimo e le nuove tecnologie bravissimo bravissimo è esattamente quell'organismo di cui avevamo bisogno senza sapere di averne bisogno e vedrai che ci darà ragione su questa cosa è una commissione nata appositamente per vigilare sull'impatto che l'intelligenza artificiale ha nell'editoria 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 una commissione simile non so se noi l'abbiamo fatto per copiare o siamo arrivati prima noi e poi ci hanno copiato gli inglesi l'hanno fatto proprio gli inglesi che hanno istituito una commissione simile e alla guida hanno messo un giovane imprenditore mi pare di 38-39 anni sì anche io 38 anni che proprio investe lavora nell'intelligenza artificiale per cui diciamo che le competenze le ha e quindi noi abbiamo deciso di fare in qualche modo lo stesso affidando questa commissione a degli esperti competenti e che insomma questa materia la masticano ma soprattutto giovani esatto chi se non Giuliano Amato Giuliano Amato anni 85 85 85 uno dice su una speranza di vita di 100 in Italia poteva andare peggio è anche questo il messaggio positivo dell'innalzamento dell'età media della popolazione c'è da dire che qui in realtà il problema non è tanto l'età perché Kissinger ha 100 anni ed è andato in Cina a negoziare trattate di pace e tutto quanto qui forse sono le competenze per cui sicuramente Giuliano Amato l'esperienza politica non gli manca è stato presidente del consiglio ecco sull'intelligenza artificiale forse viene un po' difficile pensare ecco che però pare che lui abbia uno smartphone che non è un telefono della Beghelli che le salva la vita Beghelli esatto a quanto pare manda addirittura dei messaggi su Whatsapp caspita caspita che comunque è una bella prova di di intelligenza contro la lotta verso la lotta alla demenza senile esatto ora non per ovviamente insultare in alcun modo Giuliano Amato contro cui noi non abbiamo assolutamente nessun personalismo perché non ce ne poteva fregare niente prima ce ne fregherà meno domani ma effettivamente effettivamente qualcosa nella scelta di questo riferimento potrebbe essere andata male ora io mi immagino il momento in cui la commissione è stata costituita e si è deciso chi mettere a capo della commissione e ho pensato che non lo so al tavolo non so vicino a questo tavolo magari passava Giuliano Amato loro con una bella bottiglia hanno iniziato a farla girare poi la bottiglia si è fermata esattamente nel momento in cui Giuliano Amato sta chiedendo cosa state facendo qui eccolo ecco il presidente ecco il presidente e come in un trailer di Maccio Capatonna hanno effettivamente eletto il capo commissione altrimenti faccio veramente fatica a spiegarmi oppure potrebbero averlo chiesto a chat GPT nel senso no impossibile no dici no l'intelligenza artificiale è talmente intelligente che giustamente non avrebbe scelto per fattore d'età oppure avremmo trovato il bug di chat GPT non lo so non lo so non lo so effettivamente forse chiederlo all'intelligenza artificiale sarebbe stato intelligente umanamente parlando però vedremo perché poi magari il tempo ci smentirà e questa commissione che studierà gli impatti dell'intelligenza artificiale sull'editoria ci darà dei risvolti pazzeschi e cambierà le sorti di questo paese cancellerà le fake news magari ristanando i bilanci bravo Matti cancellerà le fake news va bene detto questo finché c'è vita c'è speranza e finché c'è chat GPT c'è modo di divertirsi di sicuro ci sarà on the matters siamo una garanzia a settimana prossima a settimana